Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo episodio di Dubai Talks. Una playlist di interviste con professionisti e imprenditori italiani a Dubai in cui ci raccontano le loro storie, i loro successi, le difficoltà che hanno incontrato e i consigli che possono aiutarvi a realizzare i vostri sogni oppure, perché no, magari anche a cambiare vita e forse in una città proprio come Dubai. Il nostro lavoro è soprattutto legato ad avere un mentor che ti fa appassionare. Il sogno americano è decisamente sceso e adesso c'è il sogno dubaiano. Anche se andavo al Dubai Mall, almeno tra quattro persone mi fermavano una foto di qua, una foto di là. Sarei stato disposto a partire da zero a Dubai. Per chi non mi conoscesse, io sono Marianna, vivo a Dubai dal 2014 e sul mio canale vi racconto questa città al di là delle apparenze. L'ospite di oggi è giovane, ma da quante cose vi racconterà, penserete che abbia 130 anni. Benvenuto Nabil. Ciao Marianna, grazie mille, sono veramente molto grato di essere qui. a chiacchierare con te. Sembra che abbia 130 anni, in realtà non solo 30. Non dall'estetica, attenzione, io l'ho detto, dalle esperienze. Dalle esperienze, dalle esperienze. Diciamo che ho compattato un po' tutto nei primi dieci anni dopo la scuola e quindi effettivamente ho fatto tante esperienze, ho avuto modo di fare tante esperienze. Tante esperienze e poi la cosa che mi piaceva della tua storia, che secondo me può essere di ispirazione per tanti altri, è che hai anche avuto la, come posso dire, il coraggio, si può anche dire coraggio, di reinventarti tante volte, nel senso che tu hai studiato e hai sempre lavorato in un ambito che ora ci svelerai tu, però hai fatto tante cose diverse e hai avuto anche il coraggio di andare in luoghi diversi, hai vissuto a Londra, hai vissuto in Australia e poi qualche anno fa ti sei anche trasferito a Dubai. Esatto, effettivamente viaggiare ti apre la mente, ti dà spazio per imparare tantissime cose e questo è un grandissimo arricchimento che va oltre allo studio che si può fare magari in parallelo, però effettivamente viaggiare è una cosa che ti arricchisce tantissimo, sia a livello personale che a livello professionale, soprattutto nel mio lavoro, io quando viaggio viaggio per mangiare anche. Ecco, mangiare, parola d'ordine, indovinate un po', fa lo chef e ora qualcuno che magari mi segue da un po' dice, ma non l'hai già intervistato lo chef? Ma lui è uno chef speciale, dici tu. Posso definirmi di far parte della categoria degli chef 2.0, diciamo che le esperienze della ristorazione, negli hotel sono quelle che mi hanno formato e fatto le ossa, come si può dire. La gavetta. La gavetta, diciamola così, per arrivare poi a un punto e capire che effettivamente c'è anche un altro mercato dove noi possiamo lavorare come chef, che è quello di fare lo chef privato. Lo chef privato effettivamente può prendere diversi lavori, può fare lo chef privato come evento in una casa o per una festa, può fare lo chef privato ed essere, diciamo, chef personale o privato di una famiglia in particolare, come nel mio caso, oppure si può fare consulenze nel mondo della ristorazione, menu engineering, quindi può fare diverse situazioni in questo lavoro diciamo da chef. A varie sfaccettature, diciamo. A diverse sfaccettature si può chiamare forse chef 2.0, magari chef del futuro. Mi piace, però nello specifico ora sei personal chef, no? Possiamo dire, per una famiglia. Personal private chef, yeah. Per una famiglia, non possiamo dire chi sono, possiamo dire dove abitano e chi conosce Dubai capirà lo stile di famiglia, dove abitano, dillo tu. Sulla Palma, Palm Jumeirah. Ok, non come me, negli appartamenti dei poverini, ma in una bella villa. Una villa sulla Palma, sul mare effettivamente, e una location che è benissimo, molto bella. E beato te. E beato anche me, perché sono grato anche del fatto che comunque vivo questa esperienza tutti i giorni e quindi è comunque bello andare anche sulla Palma a Dubai tutti i giorni. Eh, adesso merita. Ci attacchiamo subito perché mi viene facile, no? Da chiederti. Ma quindi, cioè, com'è il tuo lavoro? Tu ti sveglia la mattina? Vai sempre lì a una certa ora? Quante ore stai lì? Come funziona? Diciamo che il lavoro di private chef non ha tecnicamente degli orari. Devi seguire un po' quello che è il flusso della famiglia per la quale stai lavorando. E io personalmente mi sveglia la mattina, solitamente vado a fare la spesa molto presto. Quindi ogni giorno, ogni due giorni, mi occupo di andare a fare la spesa personalmente, di scegliere gli ingredienti che voglio io. E mi capita più volte di andare anche in diversi posti a fare la spesa. Magari qualche ingrediente lo compro in un posto, qualche altro in un altro posto. E poi dopo mi recorri... stavo per dire al ristorante. Eh, non più. Non più. Alla villa. Alla villa. E dopodichè mi recorri alla villa e inizio a preparare la colazione. Attendo che i clienti si svegliano per fare la colazione. Poi, dopo servita la colazione, faccio il pranzo. Mi prendo una pausa a pomeriggio per poi fare anche la cena. Ah, quindi hai una pausa comunque. Sì, decisamente ho una pausa, però sempre seguendo il flusso della famiglia. Nel senso che se hanno bisogno, se ci sono degli ospiti, eccetera, comunque io devo essere sempre disponibile. Anche se sono in pause, in realtà sono disponibile e devo essere comunque raggiungibile, diciamo così. Eh, e quindi la linea sottile tra... Dillo tu. Eh sì, diciamo che fare il private chef e essere uno schiavo c'è una linea molto molto sottile. E sta a noi, alla nostra bravura, cercare di, con la nostra professionalità, di mantenere regime, di dire io ok, sono lo chef, sono qui per cucinare per te, per farti mangiare il miglior cibo, però effettivamente io sono il tuo chef, non posso essere il tuo schiavo. Perciò questo filo è molto sottile e dipende anche molto dalla famiglia per la quale lavori. Io sono molto felice, molto contento della famiglia per la quale lavoro ormai adesso è un anno e mezzo e perché comunque il rispetto è la base di tutto, c'è il rispetto reciproco e questo mi fa veramente molto felice, sono grato anche di aver trovato una famiglia del genere. Non tutti purtroppo sono fortunati di avere una famiglia che comunque possa esserci grande rispetto tra le due parti, insomma. Alla fine quello comunque è in ogni lavoro, no? Assolutamente, però qui entri nell'intimità delle persone, nel mio lavoro cioè devi essere bravo, sei nell'intimità, sei nella casa di qualcuno, però devi essere bravo anche a essere distaccato, cioè non devi essere troppo dentro la casa, quindi devi mantenere diciamo dei borders, dei confini con il cliente in maniera tale che comunque questo rispetto si mantenga e rimanga forte. Cioè se si vogliono fare lo spuntino delle due di notte non ti chiamano? No, diciamo che io non posso essere available perché non posso essere disponibile perché non ho una living position, quindi non vivo nella casa dei miei clienti, io vivo separato con mia moglie e quindi faccio parte della categoria di private chef che vivono fuori. Molti chef vivono insieme alla famiglia, si spostano insieme alla famiglia e io invece ho la, diciamo, la parte in cui vengo, cucino, ti faccio stare bene e poi me ne vado. Perfetto, interessante, c'è stata una bella panoramica direi. Ora facciamo un passettino indietro perché prima di capire come hai trovato questo lavoro, che non è neanche stato il tuo primo lavoro a Dubai, infatti voglio parlare di quello, quando tu hai deciso dall'Italia di trasferirti qui le cose all'inizio non sono andate benissimo, però partiamo dall'ultimo lavoro che stavi facendo in Italia e che hai deciso di lasciare. Perché? Prima di venire a Dubai, io vivo a Milano e ho lavorato lì per circa 6-7 anni e per 4 anni ho lavorato in un ristorante stellato vegetariano che è quello in cui, diciamo, ho avuto modo di formarmi proprio come chef e di diventare maturo anche nel mio lavoro e ho trovato anche una fase, quello che voglio realmente fare, ovvero seguire il mondo della cucina vegetariana e etica soprattutto, perché questo ristorante era uno ristorante stellato, si chiama Gioia, e faceva solo cucina vegetariana. Quindi da lì io ho capito che realmente il futuro è andare verso essere più etici. Dopodiché ho lasciato il mondo della ristorazione e ho aperto la mia partita IVA in Italia e ho iniziato a lavorare come chef freelancer, chiamiamolo così, dove facevo gli eventi privati, dove facevo degli show cooking, dove facevo dei corsi di cucina in giro per l'Italia e non solo. A un certo punto ho avuto modo anche in quegli anni di fare un programma televisivo che è Top Chef, che è un programma televisivo per chef e professionisti, però ambientato nel Middle East. Quindi è stato fatto vedere, diciamo, in 18 paesi arabi, il programma era in arabo e di conseguenza la ragione principale per me, per essermi spostato a Dubai, era per seguire, diciamo, l'onda del programma televisivo dopo che è stato mandato in onda. Ah giusto. Possiamo dire che non è che sei proprio scappato dall'Italia, è stata una conseguenza naturale di varie esperienze, tra le tante che tu hai fatto. A questo punto, visto che hai menzionato che il programma era in arabo, magari qualcuno ci è già arrivato dal nome, però Nabil ha origini? Tunisine e Marocchine, nato e cresciuto a Sassuolo. A Sassuolo. Perciò diciamo che volevo seguire quell'onda, ho deciso di mollare tutto, ho lasciato la casa, ho venduto la macchina in Italia, ho chiuso la mia partita IVA e mi sono trasferito a Dubai con mia moglie. E all'inizio ti riconoscevano gli arabi? Diciamo che è stata abbastanza, c'è stato molto fermento perché comunque anche se andavo al Dubai Mall almeno tra quattro persone mi fermavano Chef Nabil o se andavo in giro a West Beach mi fermavano e comunque era bello nel senso, poi io cerco sempre di essere molto umile, sono tranquillo. Lo sei. Però diciamo sì, una foto di qua, una foto di là è stato carino e anche grazie a questo ho avuto anche alcuni ingaggi di lavoro diciamo temporanei che ho potuto prendere grazie alla fama del programma TV che però poi dopo ho spostato la mia attenzione non più sul programma televisivo perché era una parentesi per me e per poi continuare con il progetto che avevo in mente. Che era? Che era quello appunto di diventare chef privato. Ah quindi era proprio in programma? Io avevo in programma di spostarmi da Milano e continuare diciamo l'attività che facevo a Milano in una città come Dubai, ancora molto fertile. Ah giusto. Privato tipo per eventi in quel senso, non per una famiglia. Esatto perché io in Italia non ho mai lavorato personalmente per una famiglia e cioè solo a stretto contatto con una famiglia ma ho fatto diversi eventi privati per diverse famiglie o anche catering un po' più grandi. però quando sono arrivato a Dubai mi sono dovuto anche io interfacciare con questa challenge del fatto che il lavoro comunque non è realmente a schiappo di dita e effettivamente ho avuto un periodo di circa due mesi e mezzo che mi sono preso possiamo dire così per trovare il lavoro che volevo realmente. e non ho trovato il lavoro da chef privato all'inizio ma ho trovato qualcosa che comunque era inerente a quello che facevo io a Milano ovvero l'insegnante di cucina e sono riuscito ad entrare in una delle più prestigiose scuole di cucina del Middle East perché vengono da tutto il Middle East che è qui a Dubai. e lì ero effettivamente lo chef instructor, lo chef insegnante più giovane della scuola e di Dubai a 28 anni e è stata un'esperienza fantastica per me all'inizio soprattutto anche perché ho ripreso sicuramente l'inglese che era molto importante perché dovevo insegnare e trasferire dei concetti, dei termini, delle idee tutto in inglese per me è stato molto importante perché ho imparato questo e poi dopo quando si è presentata l'offerta per la quale io realmente volevo venire a Dubai ho preso l'offerta diciamo da chef privato. A proposito di inglese vedi che ci attacchiamo da una cosa all'altra però comunque tu l'inglese diciamo che lo avevi già imparato perché hai vissuto e lavorato a Londra e in Australia. Sì diciamo che io ho sempre cercato di fare esperienze in inglese e per questo motivo avevo deciso a 18 anni di trasferirmi a Londra per migliorare il mio inglese e per impararlo sempre meglio dopo qualche esperienza a Londra sono tornata in Italia per qualche anno e poi dopo ho deciso di andare in Australia non solo per la lingua per fare un'esperienza personale, per fare un viaggio e soprattutto per arricchire me stesso e arricchire diciamo il mio bagaglio personale di lavoro e di esperienza. E in Australia anche lavoravi in un ristorante? In Australia sì, anche lì ho avuto modo di lavorare in diversi ristoranti e in Australia un po' diverso rispetto a Dubai la questione del visto lì vai con il working holiday visa e puoi fare quello che vuoi con quel visto e quindi in Australia ho avuto modo di lavorare in uno dei migliori ristoranti a Bondi Beach che sul Bondi Beach con la piscina con le onde che entrano dentro era spettacolare diciamo che sono grato alla vita per sempre per aver avuto posti di lavoro sempre molto belli. È vero è vero, a Londra invece aspetta perché a Londra voglio sentire com'era. Londra è difficile dire bello, è una città che è bellissima ma a me non è piaciuta tanto. Il mare non c'era quindi? Il mare non c'era, sempre un po' grigia, un po' cuba. Il ristorante stellato a Londra? Il ristorante stellato si è lavorato per lo chef Locatelli, Giorgio Locatelli a Londra. Salutiamolo se guarda questo podcast. Ciao chef! Diciamo che è stata un'esperienza molto bella, formativa, avevo 18-19 anni quindi ancora io nella fase di crescita. Perciò è stato... Hai fatto un bel po' di anni negli stellati? Diciamo non tantissimi come tanti altri colleghi. Diciamo che il ristorante stellato per me doveva essere una fase di passaggio perché volevo imparare lo standard che è quello che si impara molto bene nei ristoranti stellati. Poi dopo di che diciamo che il giorno d'oggi la ristorazione è cambiata molto, soprattutto la ristorazione è diversa rispetto l'Italia e fuori dall'Italia. Se vogliamo fare un paragone con Dubai qui abbiamo uno standard anche nella ristorazione di basso livello, non solo stellata. Invece in Italia abbiamo gli standard solo nei ristoranti stellati. Nella ristorazione di basso medio livello sono tutte gestioni familiari e comunque come si gestisce si gestisce. Non c'è lo standard e quindi lo standard è molto importante nel nostro lavoro. Perciò io al giorno d'oggi posso deliberare, posso fornire un servizio di alto livello a persone comunque di una certa nicchia. Esatto. Ma quindi sono curiosa, tu hai sempre saputo che poi volevi comunque fare qualcosa di un po' più imprenditoriale nonostante fossi nell'ambito della ristorazione o l'hai scoperto strada facendo che magari non volevi stare per sempre in un ristorante stellato o meno? Allora ti devo dire la verità, io manco pensavo di voler fare il cuoco quando ancora ero bambina. Tanti adesso, tanti bambini ed è bellissimo, sognano e vogliono diventare dei grandi chef. Io quando ero bambina non era la mia ambizione diventare chef, infatti il mio percorso di studio iniziale non era legato alla scuola alberghiera. Quando poi... Ah non è legata alla scuola alberghiera? Iniziale no, poi dopo mi sono iscritto alla scuola alberghiera, una scuola alberghiera privata diciamo di solo tre anni e da lì poi ho avuto la grande fortuna di incontrare dei mentori. Quindi il nostro lavoro, il lavoro di chef, è soprattutto legato ad avere un mentor, un mentore. Vero. Che è la persona che ti fa appassionare, ti fa venire voglia di fare questo lavoro. Perché se ti trovi delle persone che sono magari più... con più esperienza di te, ma che ti fanno odiare il lavoro, ovvero che ti urlano dietro, che comunque ti dicono che non sei capace eccetera, comunque tu ti butti giù e abbandoni il mondo della ristorazione. Invece quando poi ho avuto questi mentor, queste persone che comunque mi hanno insegnato tantissimo, è stato tutto un percorso di amare sempre di più questo lavoro. Però sono arrivato a un punto in cui ho detto ok, adesso credo di aver fatto la giusta esperienza per poter entrare nel mondo delle imprenditorie e essere capo di me stesso. Ed è quello che poi ho voluto fare quando ero a Milano e che magari farò qua a Dubai. Magari next step. Inshallah. Inshallah, giusto. Se Dio vuole significa per gli italiani che non masticano l'arabo come me. Non è vero, ho tre parole in croce. Va beh dai. Ci provo. Inshallah la so. Allora, parliamo un po' di Dubai. Perché a un certo punto hai scelto Dubai? Effettivamente Dubai è la città più in del momento. Adesso non c'è, il sogno americano è decisamente sceso. È il sogno dubaiano. E adesso c'è il sogno dubaiano. È vero, è vero. E tutti vogliono venire a Dubai perché Dubai è comunque sponsorizzata molto bene a livello mondiale. Alla fine mi è venuta voglia anche a me di venire in una città come questa. E infatti io sono venuto prima in vacanza. Che in realtà è stata una vacanza per tastare il territorio. Già c'era un'idea. Devo veramente capire se era una città fatta per me perché chiaramente magari, cioè, spostare tutto da Milano a Dubai senza sapere nulla comunque era il rischio troppo grande. Quindi diciamo che sono venuto a Dubai a tastare il territorio, ho fatto la mini vacanza. E ho capito che comunque è una città molto aperta, è una città che effettivamente ha tantissima capacità di crescita. E quindi è una città che probabilmente mi avrebbe potuto dare tanto e mi sta dando tanto. E quindi effettivamente quando poi ho deciso di trasferirmi a Dubai mi sono ritrovato nell'ambiente che mi aspettavo. Oltre a comunque aver considerato che questo è stato un investimento per me stesso. Quindi trasferirmi da Milano a Dubai per me è stato un investimento importante che sta portando i suoi frutti. Frutti che probabilmente in Italia avrei messo molto più tempo a raggiungere, a raccogliere. E quindi come ti sei organizzato quando hai deciso di trasferirti? Perché sai quando uno si trasferisce magari perché gli offrono già un lavoro già si fa due conti in più, no? Invece poi per chi chiude e riparte da zero da un'altra parte io l'ho fatto. Ok, la prima volta che mi sono trasferita all'estero a Londra ero una studentessa quindi non fa testo. Quando sono venuta a Dubai alla fine ero neolaureata, avevo un lavoro che non era il lavoro della vita a Londra e quindi ho detto senti lo mollo, riparto. Però farlo comunque a 28 anni perché tu sei venuto qui a 28 anni, sei già sposato? Mi sono sposato per venire a Dubai. Giusto perché per chi non lo sapesse spiegalo. Mi sono sposato per venire a Dubai perché a Dubai fino a poco tempo fa c'era una legge per la quale non si poteva convivere insieme e diciamo avere un contratto d'affitto insieme. Se non si era sposati. Ho deciso sì, non solo per venire a Dubai, ma ho deciso di sposarmi per diciamo chiudere un altro capitolo e aprirne uno nuovo effettivamente per poi avere il trasferimento. Quindi comunque effettivamente ti sei spostato non da solo, no? Non mi sono spostato da solo. Fai la valigia, parti e come va, va. Invece è stata una scelta di famiglia possiamo dire. Sì, di famiglia perché abbiamo anche un cagnolino. Esatto. Sì, quindi mi sono trasferito con mia moglie e il cane, proprio è stato un trasferimento vero e proprio. Un po' alla cieca però diciamo che è stato molto ponderato perché ho valutato diversi scenari e comunque ero molto convinto e avevo le idee ben chiare su quello che volevo fare. Quindi ho deciso di fare il tutto possibile per venire a Dubai e fare un'esperienza bellissima. E quanto ci hai messo a far iniziare a funzionare le cose una volta che sei arrivato qui? Diciamo che per ambientarmi a Dubai ci ho messo circa un anno perché comunque tra il lavoro e diciamo comunque Dubai è molto grande capire un po' come sono le zone, capire cosa si fa in certe zone, se hai bisogno di qualcosa, dove andare a prenderle eccetera, ci ho messo circa un annetto. E anche guidare a Dubai è un po' non è facile da fare subito e ci ho messo un po' a prendere lo stile di guida di Dubai. Diciamo che per il lavoro sicuramente mi sono trovato in un ambiente che è diverso da quello che abbiamo in Italia perché, come ti dicevo prima, cioè qui c'è una città che è standardizzata e anche il nostro lavoro qui è molto standardizzato. Quindi il ristorante è visto solamente come un'attività, come un'azienda. Quindi lo chef qui non è più solo lo chef di cucina ma il manager di un outlet probabilmente. Quindi diciamo che cambia la prospettiva di lavoro. Quando uno chef in Italia di cucina probabilmente si ritrova tantissimo, molto di più in cucina a cucinare e preparare i piatti, qui lo chef di cucina si ritrova più a lavorare sul computer e a dirigere e a gestire quello che è l'azienda più che il ristorante. E quindi diciamo che questo sistema che poi ho visto nella scuola, che poi sto portando io anche avanti, comunque è un sistema che ci sono dovuto passare dentro per fare questa transizione che mi ha portato poi a quello che sto facendo adesso. E tu a Dubai non hai cercato lavoro nei ristoranti, non era nei tuoi programmi? Io ero partito molto carico perché effettivamente nella mia testa per trasferirmi sarei ripartito veramente da zero e sarei stato disposto a partire da zero a Dubai. E quindi quello che io ho fatto è lanciare, mandare più di 200 curriculum probabilmente su diverse piattaforme per hotellerie e ristoranti. Però seguendo sempre diciamo una posizione alta che era quello dello chef di cucina. Che sarebbe l'head chef in inglese? Sarebbe l'head chef, esatto, che rispecchiava appunto le mie esperienze. Solo che diciamo le posizioni da head chef, da chef di cucina aperte sono sempre molto minori rispetto a quelle di altre posizioni più basse. E di conseguenza diciamo è un po' più difficile, è un iter un po' più lungo da raggiungere per arrivare diciamo a fare quel tipo di lavoro con quell'esperienza. Perciò io poi quando ho trovato da lavorare come chef instructor ho preso questo lavoro ma era un lavoro che probabilmente mi stava anche aspettando perché era sempre sul filo di quello che volevo fare. Perciò per fortuna non ho, per fortuna perché era la mia decisione, non ho avuto modo di lavorare nelle ristorazioni, nei ristoranti, negli hotel ma sono entrato subito in quello che volevo fare. Comunque nonostante tu non abbia lavorato nei ristoranti hai anche amici ovviamente che fanno il tuo stesso lavoro nei ristoranti. Quindi visto che la gente è curiosa da casa e soprattutto se uno sta pensando magari di trasferirsi qui deve farsi due conti in tasca. Assolutamente. Aiutaci a capire un po', dacci qualche numero di stipendi medi più o meno, range di stipendi a Dubai in questo ambito magari rispetto all'Italia perché così aiutano. Beh sicuramente in Italia il lavoro da chef di cucina o head chef è un lavoro retribuito ma non come all'estero e soprattutto uno chef italiano all'estero e a Dubai probabilmente potrebbe guadagnare tra i 20 e i 30 mila dirham tranquillamente che sono tra i 5 mila e gli 8 mila euro diciamo così. Diciamo che è uno stipendio che non è nemmeno tassato e quindi effettivamente al netto si possono considerare dignitosi del lavoro e della fatica che comunque uno chef fa nella sua carriera per raggiungere un certo livello. Per quanto riguarda il private chef diciamo che il range è sempre più o meno molto simile perché l'esperienza di un private chef deve essere alta e per un private chef più o meno il guadagno sta sempre tra i 20 e i 30-35 mila dirham ovvero sempre tra i 5 e i 9 mila euro. Per diciamo trasferirti a Dubai c'è sicuramente un investimento che se sei con la famiglia è da considerare almeno un 20-25-30 mila euro da inserire perché comunque sono soldi che devi mettere per la casa, devi mettere per avere una macchina, devi mettere per diverse cose per ambientarti però sono soldi che anche rientrano in fretta. Sicuro, comunque ora a Dubai stai bene, per ora ti piace? Io a Dubai al momento sto molto bene, diciamo che l'unica pecca può essere il caldo ma è una città che è strutturata benissimo per combattere il caldo come in Canada può fare molto freddo, qui fa molto caldo, preferisco il caldo sinceramente al freddo. Da punto di vista diciamo come lifestyle, stile di vita Dubai sei super servito ovunque, sicurezza vabbè è inutile anche dirlo perché comunque ormai si sa che Dubai è una città sicura, non ho paura, non ho paura mia moglie che porta fuori il cane alle 11 o alle 3 di notte tranquillamente come magari a Milano lo facevo solo io la sera e bisogna stare attenti, che dire sicuramente Dubai è una città dove al momento sto molto bene e... E volevo arrivare lì, al momento... C'è una bella prospettiva. Ok, quindi hai intenzione per ora di rimanere, non ci sono altri posti che ti stanno richiamando? Ma al momento Dubai è una città che mi fa rimanere qui, cioè comunque ha delle grandissime potenzialità e sicuramente devo ancora raggiungere alcuni obiettivi prima di poter pensare di cambiare idea. Dove ti auguri di vederti, lavorativamente parlando, tra non lo so 5-10 anni, tra un po' nel futuro. In pensione? Diciamo che... Già tra 5... Ho fatto tante ore di lavoro, ho tante ore... Iniziate presto nella ristorazione cavolo. Sì, sì, sì. Ho diverse ore di lavoro sulle spalle, per fortuna nell'ultimo periodo sto iniziando a rallentare un pochettino, sto iniziando a godermi quello che è veramente la vita, perché prima era work, 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 lavoro, lavoro, lavoro. Mi vedo sicuramente in un ambiente molto strutturato, dove posso sicuramente prendere molto più tempo per me stesso, dare più tempo alla famiglia e anche nello stesso tempo gestire un sistema che funziona da solo senza dover avere bisogno di me. Vorresti aprire un ristorante a Dubai? Non so se la ristorazione è ancora un investimento. A Dubai in un certo senso sicuramente tanti posti sono un grandissimo investimento, però ha anche tantissime spese. Quindi la maggior parte dei ristoranti a Dubai hanno degli investitori dietro, dei grandi investitori che mettono tanti soldi all'interno e personalmente essere chef e owner di un locale diciamo che hai bisogno di una buona... Infrastruttura. Infrastruttura, esattamente. Quindi se io devo aprire un ristorante con i soldi di qualcun altro, piuttosto preferisco fare il mio lavoro da chef 2.0. Bella, mi è piaciuta. Allora la concludiamo così. Io ti auguro di rimanere chef 2.0 per quanto tempo vuoi e se poi lasci la famiglia, torni a fare un po' più il freelancer e fai qualche evento privato, ovviamente io sarò la prima a chiamarti. Va bene, volentieri. E anche chi ci sta guardando. Assolutamente. Nabil, grazie mille di essere stato con noi. C'è qualcosa che vuoi aggiungere? Un follow the eye? Aspetta. Così? Non mi è venuto bene secondo me. Dai, follow the eye. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime interviste. Ciao! Ciao!